via bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui con alec board bella ragazzi oggi faremo una challenge in parco giochi come potete vedere alec board e io abbiamo costruito questa cosa che diciamo è una challenge un po' esistente un po' modificata creata da alec board che entreremo all'interno vi spiegheremo vieni 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 ok tenevo le porte vai faccio spiegare da alec board passate nel suo canale link in descrizione allora challenge più che una challenge è anche un allenamento sia per modificare sia per sparare col pompa praticamente di modificare questi muri di ferro e sparare l'altro perché sta dall'altro lato devo far vedere poi la tratta ok ok sei pronto vai facciamo mai giochiamo se giochiamo se eri poi nel frattempo alle spiegi via per esempio mi modifica e mi deve sparare poi io rimodifico abbiamo tre abbiamo questa parete questa parete e questa parete per modificare giochiamo adesso c'è il dietro da modificare dietro non gli intendo mi rigenero vabbè vai 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 aspetta vai se volete vedere altre challenge in parte dei giorni lasciate like sempre con alec board ci abbiamo botte di idee da fare vai vai 10 questo ahahah ovviamente veramente ora ci rigeneriamo tutte le due e ci riconosciamo e così via questa è una challenge molto divertente ve la consiglio da fare con i nostri amici è divertente poi vi aiuta anche a migliorare diciamo col pompa visto che anche noi iniziamo dei pro player a editare soprattutto che il burro è uno degli edit tutti sono importanti questo è uno dei tanti allenamenti che potreste fare e non ti ho divertito pure nel frattempo che lo fate vai via è anche molto semplice da costruire e noi l'abbiamo abbellito soprattutto per ok l'abbiamo abbellito ma comunque è facile ok ok quando si rompe dovete aspettare tutto questo non dovete ok ok erano solo 8 più po' 150 aspetta uuuh 34 stiamo ricoverando è in vantaggio lui però ti lo consiglio di usare un po' del nonno si si leva di più leva di più poi vuoi che è più adatto perché il calibro secondo me no il calibro è troppo OP ma poi se non è inutile andrarsi col calibro perché il calibro non lo incontro cioè non lo trovo in tutte le partite un po' del donno lo trovi sempre blu di tutti i colori ok questa sarà bella quanto è età è Ale 50 ok siamo passati in vantaggio 74 ok raga è bello bianchissimo eh m'ha fatto eh vabbè la casa 2 0 per me spero veramente che questa tipologia di vita 74 dita spero che questa tipologia di vita mi piace ci diverterò molto a creare queste challenge è una delle prime ho pensato di portare da nascondito anche molto divertente anche molto divertente forse accompagna pure di molte persone potremmo fare tutte le challenge sulla isola anche eh si con quel bug che mi hai detto prima ok vai aci solo niente ci divertiamo e ringrazio soprattutto a tutti quanti per immensi traguardi siamo arrivati quasi alla foglia dei 700 iscritti forse quando è stato guardano sto video già ci siamo speriamo vi ringrazio per tutte le visualizzazioni che stavo facendo con i video ultimamente soprattutto con quello delle adrenaline che ho superato le 5300 visualizzazioni attualmente mi è di 5G un video cazzosissimo che ha raggiunto quasi alle 500 dunque mi ringrazio 112 credo che sia in bianco perché prima ti ho levato 53 ma infatti 90 questa qua è stata veramente poco sta challenge ovviamente cioè noi la stiamo facendo uno contro uno perché volevamo portare un video due due in giro però fare anche divertentissimo due contro due vabbè poi tre contro uno perché poi bullizzate però vabbè a parte se quella è fortissima nel nostro caso non sono fortissimi dunque facciamo due contro uno ci sei? io sto qua faccia per l'entrata vai fatti direttamente l'entrata senza la porta eh no vabbè più è bello estetico raga sono andato di prefire cioè no di prefire cazzosissimo sta challenge la potete fare anche mettendo delle impostazioni che si vede i nomi così così potete anche trollare diciamo dalla mostra se volete io dove sto già sai che modificherò la e spar certo è divertente però si è anche come un allenamento si fa e gg già sporgi e ti visto che c'è il uuuh quant'alardo mi ha appriso? quant'alardo mi ha appriso? quant'alardo mi ha appriso? ovviamente ci possono fare anche le porte si si tutto tutto l'importante è che modifica il muro anche questo qua per esempio ti metti così salti guardati guardate guardate quale che potrebbe essere assaggiando veramente bene ah qua è tosta non mi ricordo quanto hai detto? 150 115 uuuuh ok ah che fa il muro vai dai Mamma mia raga Gli abbiamo fatto 200 di seguito GG Raga quando uno è forte è forte Eh fenomeno Vai facciamoci un altro due dai Certo era un po' un video così giusto Per farvi vedere qualche challenge Può essere che per ispirarvi Che sinceramente non ho mai visto nessuno Fare sta challenge in barco gioco Non c'è manco se siamo stati i primi a farlo Che lo sappi Dunque Vai vai continuiamo Eh si Hai letto il cavolo con quella modifica Ah Eh è molto bello Eh lo so Spera solo i punti Aspetta Sì 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 qua Oh che cosa Cosa Uno Vado Ok ricarichiamo Ok ricarichiamo Ok ricarichiamo che come lo si è giocato però pure lui Sì Ok 99 Ok 99 Un bello di sta challenge che Già mi pumpa a volte non sono un bagaglio Eh però quale Vale Vabbè sì sì Scusa Scusa non ho fatto neanche apposta salire Vabbè sì ah No Ok, ok Mi rimando Ok Aspettiamo adesso Aspettiamo, facciamo un bel balletto Ok ragazzi, diciamo che il video può finire qui Il vincitore per oggi sono io Dunque, ci vediamo Prossima challenge in parco giochi Dunque, raga, bella Bella raga Ciao